Bentornati sul mio canale, io sono Pier Paolo Cavagna e questa è una nuova puntata di Anamnesi dedicata alla storia clinica di Marilyn Monroe. 1942-1948, fine del primo matrimonio e inizio della carriera da modella. I primi tempi del matrimonio sembrano quasi felici. I due sposini si trasferiscono nella casa dei Dogarty che, intanto, hanno cambiato casa. Poi vanno a vivere in un bungalow, a Van Nuys, in Bessemer Street. Norma Jean prova a fare la moglie americana degli anni 40. Cucina, lava, stira il bucato. Il problema, però, è che nessuno glielo ha insegnato a fare e quindi lei tenta di inventarsi un ruolo per il quale non è pronta. Quindi rifila a Jean sfilze di insalata di carota e mais perché qualcuno le ha detto che deve giocare con i colori e bicchieroni in straccolmi di brandy senza ghiaccio perché non ha mai bevuto alcolici e non sa regolarsi con le proporzioni. Ero innamoratissimo e lei era molto acuta, aveva un bel viso e un bel corpo. Quando ci sposamo era la sedicenne più matura che avessi mai conosciuto. C'era qualcosa di maturo e terribilmente speciale in lei. Altre volte poi si comportava come una bambina. Non aveva avuto un'infanzia e lo dimostrava. C'erano due Norma Jean. Una era la bambina che teneva le bambole e gli animali di peluci nella cassettiera. L'altra aveva umori mutevoli che spesso facevano un po' paura. C'erano sprazzi di una persona che per tanto, troppo tempo non era stata amata. Per troppi anni era stata trascurata. Nella nuova casa di Van Nuys i Dogerti intrattengono le loro prime relazioni di vicinato con un giovane artista e la sua fidanzata. Un ragioniere e due studenti di medicina con le loro mogli. Norma Jean, ben presto, inizia a ricevere i vicini a casa e ad organizzare delle piccole festicciole. Jean la vede mutare rapidamente, da stentata casalinga a ballerina e intrattenitrice. Passa da un uomo all'altro, parlando e ridendo. Anche le passeggiate a Santa Monica o a Van Nuys iniziano a non passare inosservate. Norma Jean e Jean fanno molta attività sportiva. Vanno a sciare, a fare escursioni, a nuotare, a fare canottaggio, a montare a cavallo. Myler riporta che proprio durante un giro a cavallo all'imbrunire Norma Jean chiede al marito come fa questo cavallo a vedere nel buio e lui le risponde di accendere i fari. Dove sono? Chiede. Decisamente le relazioni fra uomo, animale e macchina non le sono chiare. I suoi giorni da Massaia diventano sempre più lunghi e noiosi. Jim le compra a un colli, Magsy, il primo cane che lei osò tenere dopo tippi e si arruola in marina. Lo spostano all'isola di Catalina, 27 miglia a largo della Baia di San Pedro. Dopo aver avuto l'incarico definitivo come istruttore per le nuove reclute, affitta una casa sul fianco della collina di Avalon e ci porta Norma Jean e Magsy. Lei è una delle poche donne della base e quando esce per una passeggiata è un avvenimento teatrale. Riprende a portare maglioni e gonne attillate, costume da bagno corti e ridottissimi. Ha i balli all'aperto che si tengono ogni tanto alla base e fa furore con il suo abito bianco. Nel 1944 Jim si imbarca su una nave militare, conrotta verso l'Australia. Norma Jean, sposata ormai da due anni, va a stare dai suoceri, che sono al lavoro tutto il giorno, in uno stabilimento militare dove si impacchettano i paracadute e si verniciano i bombardieri. Un po' per passare il tempo, un po' perché un'entrata in più fa sempre comodo, decide anche lei di andare a lavorare presso la radio Plane Munition Factory, un'industria aeronautica nel sud della California. È piena di energia in questo periodo e lavora a sodo, ottenendo una lusinghiera qualifica dai suoi superiori. E qui, un giorno di fine 1944, il caso mette l'obiettivo di David Conover davanti a una radiante e vibrante fragilità. Conover, un caporale dell'esercito, lavora per la rivista Yank ed è stato incaricato di fotografare qualche giovane donna mentre compie del lavoro bellico. È un incontro fulminante. Norma Jean scrive entusiasta a Grace McKee. Le prime foto vengono pubblicate nel luglio del 1945. I negativi di Conover iniziano a girare tra i colleghi di Yank. Un mese più tardi, Norma Jean si licenzia dalla radio Plane Munition Factory e firma un contratto con la Blue Book Modeling Agency di Emily Snively. Nei giorni a seguire prende a frequentare un corso serale per modelle dove studia foto di moda, posa, trucco e movenze. È sempre fuori e la tensione con i suoceri si acutizza fino a che decide di fare il ritorno alla casa di Anna Lower lasciando Maxi dai suoceri. Morirà poco dopo di crepa cuore, direi in seguito Jim Dogherty. A questo periodo risale un nuovo incontro con la madre Gladys tornata da San Francisco con Grace. Gladys è vestita tutta di bianco, perfino con le scarpe bianche. La scoperta di alcuni documenti appartenenti alla tutrice della madre di Norma, Ines Manson, ci consente di mettere in luce con maggiore precisione la relazione di Norma con la madre psicotica. Per molti anni Gladys fu convinta di essere un'infermiera della Christian Science che aiutava la gente a curarsi senza fare ricorso ai farmaci. Un delirio, ancora oggi molto comune nei pazienti che rifiutano i trattamenti, sulla base di convinzioni farmacofobiche. Gladys leggeva in modo ossessivo il testo chiave della Christian Science, Science and Health. Si vestiva di bianco, con calze e scarpe bianche e i capelli tenuti in ordine da una retina. Dopo essersi sposati in età avanzata con un uomo che poi risultò essere già sposato, Gladys sviluppò un'ossessione per aver avuto rapporti carnali con gli uomini, considerando anche la figlia, sex symbol nazionale, tarata e per questo sessualmente così libera. Questo spiega in parte l'estrema ostilità e aggressività mostrate in presenza della figlia. Tuttavia Norma Jean decide di affittare un appartamento di due stanze e prende Gladys con sé. Vivranno insieme sette mesi, fino all'estate del 1946, quando Gladys deciderà di fare il ritorno al suo ospedale. Il mondo va avanti, la guerra è finita e Jean torna a casa. Ma la moglie bambina che aveva lasciato prima di andare al fronte non c'è più. Adesso c'è una giovane donna di vent'anni, splendidamente lanciata nel mondo scintillante di Hollywood. La metamorfosi di Norma Jean sta accelerando sempre di più. In Fragment scrive, riguardo a Jim, «Il mio rapporto con lui è stato fondamentalmente insicuro, sin dalla prima notte che abbiamo passato da soli. Probabilmente mi sentivo molto attratta da lui perché era uno dei pochi ragazzi per cui sessualmente non provavo repulsione. Ho sempre sentito il bisogno di essere all'altezza di quello che i grandi si aspettavano da me, dato che ero, pur non in un modo precoce, una ragazzina insolitamente matura per la mia età. Jim le impone un ultimatum, scegliere tra il ruolo di moglie, tutta casa, piatti e sottomissione e la vita da modella. Norma Jean si libera un suo colpo di matrimonio e lavoro. Tramite Emeline Snively conosce un giovane ungherese scappato in America davanti all'avanzata di Hitler che a New York ha trovato da vivere come fotografo di moda, André de Dienet. La sua prima impressione fu che era truccata in modo meraviglioso. Meno di cinque minuti dopo le chiese se poteva fotografarla nuda, incasso un rifiuto netto, ma quel primo giorno la fotografò in costume da bagno e la strinse da sedio fino a convincerla a partire in macchina insieme, per un mese, nell'Ovest per un servizio fotografico. È interessante notare come da questo periodo Norma Jean inizierà a utilizzare il suo corpo e la sua presenza in genere come mezzo per ottenere protezione, riconoscimento, accoglienza e aiuto. Sandor Ferenzi, psicanalista e psichiatra ungherese nonché uno dei pionieri della psicoanalisi in Ungheria, in uno dei suoi contributi più noti afferma che la ricerca di attenzione e tenerezza da parte del bambino può facilmente essere misinterpretata o sfruttata dall'adulto che vi contrappone una relazione sessuale. Ne risulta una confusione nella quale il bambino finisce per identificarsi con l'aggressore, introiettando i suoi desideri offrendo a sua volta relazioni sessuali in cambio di protezione e tenerezza. Diene era innamorato, si fidanzarono e per tutto il viaggio la fotografò tutto il giorno e dormì con lei tutte le notti. Tornarono a Los Angeles e lui andò a New York per i suoi affari. Ma al rientro lei era cambiata, la spiò e scoprì che aveva altre relazioni. Il fidanzamento fu rotto e Diene sostenne di averla odiata per anni, anche se di tanto in tanto accettò di fotografarla su commissione, come a Jonas Beach nel 1950. 1948, muore Norma Jean, nasce Marilyn Monroe. 1948, 22 anni. Norma Jean più tardi scriverà di questo periodo. Provavo una strana sensazione, come se fossi due persone. Una era Norma Jean dell'orfanotrofio, la figlia di nessuno. L'altra era una di cui ignoravo il nome ma sapevo il suo posto. Lei apparteneva all'oceano, al cielo, al mondo intero. Tra il 1948 e il 1950 avviene la profonda mutazione che porta Norma Jean a scindersi in due identità, sostanzialmente contrapposte ma complementari. Una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Norma Jean continua ad essere la timida ragazzotta cresciuta tra l'orfanotrofio e le tante sporadiche figure adulte che di lei hanno abusato e che si sono prese cura di lei. Ma è anche in grado, come dirà 15 anni più tardi, di andare a finire nell'inconscio della gente. Si reca da Frank e Joseph, parrucchieri di Hollywood. Le fecero una permanente liscia e poi scolorirono una bionda dorata con una sofisticata acconciatura ondulata pettinata all'insù. Via gli abiti di cotonina, via la gomma da masticare, il corpo ora è fasciato in abiti aderenti. Via a reggissione mutande. Marilyn d'ora non indosserà più biancheria intima. Solo durante la notte metterà il reggisseno per evitare di rovinare la silhouette perfetta, altro che 5 gocce di Chanel. Ottiene, in maniera quasi casuale, un rapido provino a colori con il regista e sceneggiatore Walter Lang. Lang intravede qualcosa e alla fine di una giornata di lavoro arrischia 300 metri di pellicola senza sonoro. Quando il giorno dopo riguarda le riprese alla Moviola rimane folgorato. Quella ragazza aveva qualcosa, dice, qualcosa, che non avevo più visto dei film muti in poi. Aveva un tipo di fantastica bellezza che faceva pensare a Gloria Swanson. A quando una diva doveva essere bellissima e sapeva infondere sesso a un pezzo di pellicola come Jean Harlow. Il provino le procurò un contratto con la 20th Century Fox, dove sarebbe poi rimasta in modo intermittente per 15 anni. Ma a questo punto l'apparenza fisica non corrisponde più all'identità anagrafica. Norma Jean non può essere quell'immagine conturbante che inquadra la macchina da presa. E allora, come direbbe Jung, Norma Jean si ritira nell'ombra. L'ombra è vicino all'uomo e ne cela l'inaccettabile. L'ombra, la figura proiettata sulla parete, che insegue l'individuo anche quando si allontana, è uguale nella forma ma opposta nei movimenti e direzione. L'ombra è qualcosa che si sceglie solo in presenza della luce, poiché un corpo immerso nel buio non ha parti oscure, non ha ombra. E dall'ombra di Norma Jean si stacca una nuova figura. Norma Jean è pronta a scindere i suoi legami sentimentali con il passato. Adesso può sostituire Jean Harlow e Norma Talmage con Marlene Dietrich o il presidente Monroe, o con sua madre. Siamo alle soglie del 1950. La Olivetti produce la lettera 22 ed è Gasperi e la DC sono aggrappati al governo peggio di una zecca a un cane. Nasce Charlie Brown e la Disney proietta nelle sale Cenerentola. La spinta definitiva la fornisce Ben Lyon, attore, registra e produttore cinematografico. Soprattutto inventore di un'altra bionda a platino, del calibro di Jean Harlow. Sì, proprio quella Jean. Norma Jean va in ombra. C'è un nuovo personaggio, ora, sotto i riflettori. Marilyn Monroe. Primi passi di Marilyn Monroe. La storia dell'ascesa cinematografica è estremamente complessa, punteggiata di piccoli contratti spesso revocati e poi ripresi, grazie alla protezione dei vari agenti e vecchi produttori. Marilyn Monroe è ancora, a tutti gli effetti pratici, una fotomodella, ma guadagna meno. È più rinomata per la sua mancanza di talento e per essere vista come una ragazza svampita e piuttosto ordinaria. Spesso deve vivere con 30 centesimi al giorno, l'equivalente di un hot dog e di un caffè. Partecipa a due film. Nel primo, la sua particina è quasi completamente tagliata. Nel secondo, ha una parte che la vede 14esima su 15 attori. Ma inizia anche a frequentare l'Actor's Lab, facendosi ben presto notare per essere quella rigida dell'ultimo banco che non apriva mai bocca. Non abbiamo descrizioni professionali delle condizioni psicologiche degli anni dell'ascesa. Le sessioni fotografiche di questo periodo la ritraggono disinvolta e perennemente sorridente. Ma i colleghi del laboratorio teatrale la descrivono come estremamente timida e un po' goffa. Alcune modalità comportamentali peculiari risultano però già ben visibili. Ad una forma di insicurezza sociale e relazionale che non l'abbandonerà mai per tutta la vita, Merrill impone a compensazione la sua seduttività che, facendo leva sulle sue doti fisiche esibiti in ogni contesto con straordinaria impudica facilità, le consentivano di ottenere vantaggi e protezione. Gli amici del periodo raccontano di una tendenza al panico unita ad una marcata iper-emotività. A questo quadro, che potrebbe far propendere per una sorta di fragilità intrinseca, si vanno a unire tratti di profonda ambiguità e ambivalenza. In ambito professionale, Merrill è ostinatamente indipendente, sopporta male regole e consigli di esperti e consulenti, entra facilmente in conflitto con i produttori, spesso anche rimetendoci dal punto di vista economico. Mostra una feroce determinazione verso il proprio obiettivo di diventare una stella, a costo anche di una quasi totale assenza di scrupoli e di senso del pudore, a volte oltre il limite dell'assenza di ogni regola morale. Merrill è comunque sola, fortemente dipendente da coloro che l'aiutavano, ma al contempo incapace di stare da sola. Sessualizza con estrema facilità ogni relazione maschile, non riuscendo però a mantenere relazioni affettive stabili. «Sola, sono sola, sono sempre sola, comunque sia», scrive in Fragment nel 1949. La carriera stenta a decollare, rimane disoccupata per parecchi mesi e deve riprendere a lavorare come fotomodella. A marzo del 1947 la Twenti finalmente le dà la possibilità di recitare in un film. Si tratta di Scudda U Scudda EI, dove compare per sole due scene che vengono tagliate in fase di montaggio. Diciamo che per essere il debutto della più grande stella cinematografica del cinema mondiale non è stato proprio eclatante. E' ancor meno eclatante il fatto che la Twenti decide di utilizzarla come hostess in varie convention in giro per lo Stato. Tuttavia, questo è anche il periodo in cui la Monroe conosce Natasha Littes, un'attrice tedesca naturalizzata statunitense, insegnante di recitazione che a sua volta fu allieva di Max Reinhardt. La Littes covava un profondo rancore verso l'establishment di Hollywood, che l'aveva relegata a parti di secondo piano a causa del suo aspetto sgraziato e del suo marcato accento teutonico. Nell'ambiente si era ritagliata il ruolo di una vecchia zittella. Ma è anche terribilmente eludita ed è una grande insegnante di recitazione. Marilyn non le fa un grande effetto, la trova impacciata a causa delle tante costrizioni innaturali che aveva imparato dai maestri del passato, soprattutto il suo modo di parlare senza muovere le labbra. Il suo adalizio tra la Monroe e Natasha durerà fino al 1954, raggiungendo vette di marcata dipendenza, una caratteristica di molte delle successive relazioni della Monroe. Sempre in questo periodo Marilyn apprende da Grace McKee Godard della morte di Anna Lower per una grave insufficienza cardiaca acuita da una dipendenza da alcol e droga. Aveva 68 anni e la sua salute da due anni non aveva smesso di peggiorare. La Monroe non andrà al funerale. Grace stessa troverà la morte il 28 settembre del 1953 per suicidio. Ingerirà un quantitativo lettale di barbiturici. Dopo altri lunghi mesi di disoccupazione come attrice e di lavoro come modella fotografica, Josh Hank, co-fondatore della 20th Century Fox ed ex marito di Norma Talmage, chiederà un favore al suo collega della Columbia, Henry Cohn, per farla avere una parte. E la parte la ottenne veramente. E anche lezioni di ballo e di recitazione. Sì, perché si trattava di un musical. E quindi per la prima volta vediamo Marilyn Monroe recitare con una parte da protagonista, ma anche cantare e ballare. Il film è decisamente orrendo. Ma lei no. Orchidea bionda. Ladies of the Chorus segna il suo reale debutto nel mondo del cinema. E comunque è lontana, anni luce dall'icona che finirà per rappresentare. I suoi denti sono un po' sporgenti, il mento un po' troppo lungo e il naso un pochino largo. Le conferisce un'aria un po' porcina. Sul set la Monroe conosce Fred Cargar, compositore, musicista e insegnante di canto, di cui si infatua. Anche questa dinamica si ripeterà con estrema frequenza tante e tante volte negli anni a venire. Insieme con Cargar, la Monroe acquisisce anche una famiglia che la colga. Si infila letteralmente nel tessuto familiare, conosce la madre di Fred e stringe immediatamente una relazione fortissima. Ma lui come la prende? È vero, sì, che la invita a cena in ristoranti in riva al mare, a lume di candele con vino di qualità. Ricordiamoci che la Monroe in questo periodo è in prestito alla Columbia, che la paga una miseria e spesso ha difficoltà a mangiare decentemente. Ma è anche vero che lui, uomo musicalmente acculturato dai modi raffinati, se ne vergogna terribilmente. Soprattutto perché a questo periodo risalgono i primi segnali di monroismo. Alcuni biografi li classificano semplicemente come gaff madornali. Ma a noi, che stiamo analizzando questa storia di vita con un taglio più clinico, ci colpisce il fatto che si trattasse di frasi apparentemente fuori contesto, quasi stupide se prese come dette, ma in fondo portatrici dell'incapacità della Monroe di avere una lettura generale del complesso. Ricordate i fari del cavallo. Questa sorta di battuti imprevedibili, spiazzanti, ha contribuito in maniera notevole a generare negli anni l'etichetta di occa bionda, stupida e senza cervello. Karger scarica la Monroe alla prima occasione e lei si trova nella consueta condizione di lutto, solitudine e indigenza economica. Il suo agente riesce a farle ottenere una piccola parte in una notte sui tetti, con Gruccio Marx. La parte è veramente minima, ma lei, come sempre, le si dedica con una devozione ed una cura quasi ossessiva. Ne risulterà una interpretazione irresistibile. Ci mette dentro tutto quello che conosce in fatto di provocazione, di esagerazione, di sex appeal. Johnny Hyde, un famoso agente, la vede in una proiezione privata e perde letteralmente la testa. 54 anni lui, quattro figli e una moglie bellissima, Moselle Craven. 23 anni lei, niente da perdere e nulla in mano. se non un corpo in grado di turbare a Johnny più di una notte. Moselle non ci sta e chiede il divorzio. Hyde ha consente e propone il matrimonio alla Monroe, ma le rifiuta. Gli vuole bene, ma non è innamorata di lui. Hyde è gravemente malato e, come se sapesse che il suo tempo sta per finire, le si dedica totalmente a livello professionale. Le procura un nuovo contratto con la 20th Century Fox, stavolta a 750 dollari alla settimana e la svolta. Finalmente potrà mettere insieme un pranzo e una cena e dedicarsi, anima e corpo, a lavorare nel cinema. In questo periodo posa nuda per il calendario di Tom Kelly. Le foto pubblicate sotto lo pseudonimo di Mona Monroe verranno ricordate come Miss Golden Dreams. Il corpo della Monroe è in condizioni superbe, ma Hyde da lì a poco la comincia a farsi fare una chirurgia facciale. Il naso viene ridotto, il profilo della mascella corretta. Alla protrusione dei denti ci aveva pensato qualche mese prima un odontotecnico pagato da Karger. Il mondo, ora, può conoscere Marilyn Monroe nella sua forma alterata, definitiva. Ma Hyde muore per davvero e Marilyn rimane sconvolta dalla notizia. I familiari non le consentono ad assistere all'esequie. Per lei è troppo. Il carico emotivo supera drammaticamente la soglia di sopportazione e, per la prima volta nella sua vita, tenta il suicidio. La salva l'alites ha ingerito tutti i medicinali che aveva trovato in bagno. L'instabilità affettiva aveva generato una recrudescenza di quel sentimento cronico di vuoto tante volte sperimentato nel corso della vita che, questa volta, aveva raggiunto un punto tale da portarla a compiere un gesto anticonservativo. È interessante notare però come, in questo caso come in molti altri a venire, possiamo intendere il gesto come un tentato suicidio non adeguato. Marilyn lo compie a casa dell'alites con un duplice chiaro intento. Da una parte trova un modo per dare sfogo al dolore provato, dall'altra richiedere in maniera prepotente l'attenzione su di sé. Potremmo in questo senso incasellare questo tentato suicidio come una sorta di autocura paradossale. Grazie per avermi seguito fino ad ora. Per oggi ci fermiamo qua. Vi aspetto alla prossima puntata per continuare il nostro racconto insieme.